Cosa pensate stia facendo Gesù da oltre 2000 anni? Avete mai pensato a questo? Molte persone credono che Gesù è in cielo da 2000 anni e sta costruendo delle case, dei palazzi. Ma è veramente questo quello che Gesù sta facendo da oltre 2000 anni? Ha in mano un martello e dei chiodi e sta martellando da 2000 anni? Immaginate, lui ha impiegato sei giorni per portare in esistenza tutto il creato per mezzo della sua parola e ora invece sta impiegando 2000 anni per costruire delle case? Ovviamente ci deve essere qualcosa di molto più significativo che sta succedendo lassù nei cieli. E la Bibbia presenta un'immagine sorprendente, quella in cui Gesù si trova in un santuario celeste. Nel Vecchio Testamento c'è un santuario sulla terra che era solo una copia di esso e in questo santuario il sacerdote intercedeva per il popolo. Il sacerdote era il mediatore tra l'uomo e Dio. Le Sacre Scritture ci fanno capire che questo Gesù salì in cielo ed entrò nel santuario celeste. Nel Libro degli Ebrei la Bibbia ci spiega il ruolo di Gesù in questo santuario celeste e dipinge un'immagine bellissima nella quale Gesù prende il ruolo che avevano i sacerdoti sulla terra. Nel Libro degli Ebrei capitolo 9 versetto 24 sta scritto Infatti Cristo non è entrato in un luogo santissimo fatto da mano d'uomo, figura del vero, ma nel cielo stesso per comparire ora la presenza di Dio per noi. Il sacerdote quindi è Cristo e Gesù sta rappresentando te e me davanti a tutto l'universo, davanti a Dio e agli angeli. Ma la cosa più bella di questo è che lo stesso Gesù che ci sta rappresentando è lo stesso Gesù che è diventato uomo in una mangiatoia, è lo stesso Gesù che visse una vita umana e entrò in contatto con le sofferenze e le lotte di questa vita. E questo è il rappresentante che ci sta rappresentando davanti a Dio nei cieli. Il cielo ha investito ogni possibile risorsa per la salvezza di ogni individuo. Gesù è instancabilmente occupato nel ministerio per la nostra salvezza. Ha fatto tutto il possibile per permetterci di essere lassù nei cieli con Lui. Sta attualmente cercando delle giustificazioni e dei modi per riceverci lassù nei cieli. Gesù non sta cercando dei motivi per tenerci fuori dal suo regno, ma sta cercando dei motivi per portarci nella sua presenza e nella presenza del Padre. Grazie a tutti. Grazie a tutti.